Molfetta riparte anche dal commercio per dare una spallata alla crisi che ovviamente non riguarda soltanto Molfetta. Noi abbiamo fatto una scelta precisa, la nostra estate molfettese comincia dal centro città e comincia dal commercio. Ci sono i saldi, cominciano fra poche ore e abbiamo voluto credere nella proposta che ci è stata fatta dalle associazioni, dei commercianti Molfetta Shopping e Confesarcenti perché crediamo che la città abbia bisogno di investire nuovamente sulle vie del centro e che l'amministrazione debba essere accanto a chi ha scommesso di restare in centro. È vero c'è la grande distribuzione, è vero c'è l'abitudine di fare i saldi nelle città capoluogo ma noi invece invitiamo tutti a venire a fare compere a Molfetta. Questo attraverso anche un programma di investimenti e di iniziative che tenteranno di attrarre gli acquirenti nel centro della città. Lo scopo nostro è stato proprio quello di cercare di cogliere questa occasione, non solo l'occasione dei saldi ma anche questo momento di congiuntura economica perché riteniamo che Molfetta abbia una storia legata al commercio, una storia legata alla tradizione e che debba essere valorizzata. Quindi insieme a Molfetta Shopping che è una delle associazioni che rappresenta il maggior numero di commercianti sul territorio abbiamo deciso di mettere da parte i personalismi delle singole associazioni e renderci insieme alla Confessa Arcenti lo strumento attraverso il quale dobbiamo valorizzare i commercianti e valorizzare il territorio. Abbiamo chiesto un investimento all'amministrazione, abbiamo chiesto un investimento anche ai nostri aderenti che hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida manifestazione. Cosa consisterebbe? Allora tutta l'area centrale del centro urbano commerciale verrà colorata da poesia, musica, arti figurative, secret show, animazione per bambini, iniziative creative di grande interesse. Ci siamo cimentati in questa avventura, lo abbiamo fatto con un gruppo di giovani volontari che hanno deciso di mettersi in gioco in questo progetto. Dalle 18 alle 21 e 30 di venerdì 4 e sabato 5 luglio il centro urbano di Molfetta sarà un faro per tutto il nord barese. Poi in Piazza Principe di Napoli la sera ci saranno sempre delle feste. Sindaco, un motivo in più per scegliere Molfetta quest'estate? Assolutamente sì e tra l'altro voglio dirlo, non pensate che il problema di fare acquisti in centro questa volta sarà dove lasciare la macchina perché l'amministrazione ha voluto sostenere un'altra richiesta delle due associazioni e regala oggi 1500 grattini per il parcheggio alle associazioni affinché chiunque acquisterà nei negozi aderenti potrà avere in omaggio anche i biglietti per parcheggiare e anche un caffè in uno dei bar aderenti in modo tale che i saldi diventi un'occasione di vivere il centro città, di vivere Molfetta fino in fondo.